La qualità del prodotto Nel 1986 abbiamo iniziato come Consorzio Acque e siamo cresciuti con la costruzione della Diga di Ridracoli, l'attivazione dell'acquedotto della Romagna, fino a diventare proprietari e gestori di tutte le fonti locali. Oltre il 50% dell'acqua che raccogliamo proviene da aree protette. Le fonti sono diverse e dislocate nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Per assicurare la qualità dell'acqua effettuiamo oltre 160.000 controlli ogni anno. E guardiamo al futuro con investimenti per le opere acquedottistiche, i beni in concessione onerosa per la depurazione e per la ricerca, con il mondo universitario scientifico. Perché vogliamo continuare il percorso di crescita? Grazie a cui oggi, con oltre 100 milioni di metri cubi di acqua e 566 chilometri di rete acquedottistica, copriamo il 100% del fabbisogno idrico romagnolo. Con attenzione a ogni dimensione sociale, economica e ambientale, per acque e servizi sempre migliori.